Sabato della settima settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini, perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro, Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, ponendo le mani su di loro. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E, prendendoli tra le braccia, li benediceva. Un bambino solitamente usa lo stupore, non il possesso. Gli adulti cercano sempre un utile nelle cose. I bambini, invece, godono delle cose. Punto e basta. Gli adulti perdono tanto tempo a commentare le proprie cadute. I bambini, invece, si rialzano. Gli adulti cercano rassicurazioni prima di fare qualcosa. I bambini, invece, sono ostinati e rischiano. Questo significa farsi piccoli. Ma farsi piccoli significa anche accettare di perdersi e di essere ritrovati. Accettare di sbagliare e lasciarsi portare sulle spalle dalla misericordia. Farsi piccoli significa accettare di perdonarsi. Magari Dio ci perdona, ma siamo noi a non accettare di aver sbagliato. Un bambino non ragionerebbe mai così. Per questo vive meglio. Dovremmo, allora, imparare la lezione che ci viene dai bambini. Non tanto nell'essere sproveduti nel modo di vivere, o ingenui, ma nella capacità di essere semplici, cioè di saper puntare tutto sull'essenziale, su ciò che conta, e non su ciò a cui noi diamo solitamente importanza, perché preoccupati del giudizio degli altri, di noi stessi, e molto spesso di quello di Dio. Non si fa molta strada quando ci si sente addosso uno sguardo di giudizio. E' la fiducia, la benevolenza, che tira fuori i capolavori. I bambini sanno far tesoro di questo sguardo. Ciò li rende capaci del regno di Dio più di tutti gli altri. Sì. 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 Sì.